La brusca frenata del Forlì nelle ultime giornate aveva un po' raffreddato i sogni di Gloria riavvicinando pericolosamente i galletti alla parte destra della classifica. Una squadra, quella di Mr. Paci, che aveva comunque dato segnali incoraggianti di personalità nella trasferta di Mantua e che Cristoggi confidava nel colpo da tre punti contro l'inseguitrice dei Virgiliani, quella Fiorenzuola, arrivato a Forlì con intenzioni davvero bellicose. Lo vediamo subito, l'imbucata da parte di Boilini per Tognoni, salva Ghertos, letteralmente salvataggio per la porta bianco-rossa, Forlì però ben disposto in campo, recupera palla Baldinini, Bonandi ci prova con una soluzione comunque sia intelligente anche se imprecisa. Eravamo al 26esimo, possiamo già spostarci al 41esimo perché gli ultimi 5 minuti della prima frazione sono stati veramente di fuoco. In attacco c'è il Forlì, bella la combinazione per portare in area di rigore Gomez la respinta sulla linea di porta da parte dell'estremo difensore Battaiola. Poi ancora in attacco il Forlì con questo tentativo a vuoto da parte di Calabrese, ma andiamo avanti, Zamagni mette al centro un cross, pallone solo spizzato ma recuperato da parte di Buonocunto. contro cross e da lì fallisce un'occasionissima Gomez, sotto misura davvero sfortunato qui il Forlì, ma poi sfortunato anche il collaboratore del direttore di gara, evidentemente ricevuta forse una pallonata, perde sangue dalla naso, alla fine comunque si potrà riprendere dopo qualche minuto di stop e come vedremo tra pochissimo si riprende alla grande per il Forlì. Ancora in attacco, Calabrese va via sulla destra, mette al centro un cross, proteste per un Mani, in area di rigore poi Bonandi rimette l'indietro per Zamagni, contro cross, nuovo colpo di testa di Calabrese, alla fine palla in angolo e dall'angolo il pallone che spiove, si inserisce Baldinini. Il gol realizzato proprio da parte del capitano che come vediamo va a cercare l'abbraccio non solo ideale da parte dei sostenitori, uno striscione sostanzialmente che profetizza quello che sarebbe poi accaduto, il Galletto che fa un gol, il Galletto che riparte nel corso della ripresa avanti di una rete con un Fiorenzuola che però ha un'occasione colossale, Guerrini semina il panico in area di rigore e poi incredibile, sotto misura Piraccini sbaglia completamente la sua esecuzione e così ci spostiamo dalla parte opposta, c'è il Forlino attacco, pallone messo al centro da Zamagni per Calabrese, chiude troppo l'angolo della sua conclusione, siamo adesso al 25esimo calcio di punizione in area di rigore, uno schema per Tonioni, sbaglia da posizione molto favorevole, resiste bene il Forlì che addomestica la partita, siamo alla mezz'ora del secondo tempo, l'ultima vera chance del match, questa conclusione secca di Piraccini che non riesce a riscattarsi dopo l'errore clamoroso e allora sì, ma andiamo in archivio questo match con il risultato più dolce per il Forlì, 1-0 va tutta la squadra, seconda in classifica.